La riforma sanitaria è passata all'unanimità. Questa mattina la Giunta Provinciale, con a capo il Presidente Arno Compaccer, ha dato il via libera alle linee guida della tanto discussa riforma e delle strategie da attuare per l'assistenza sanitaria in Alto Adige. I dettagli sono stati illustrati dal Land Southman Compaccer e dall'assessore provinciale competente Stoker nell'ambito della conferenza del martedì a Palazzo Wittmann. Il documento prevede il mantenimento dei sette ospedali alto tesini anche se ogni struttura dovrà avere il suo ruolo. E per questo logicamente sia l'ospedale di Bolzano che anche la periferia devono fare degli sforzi da una parte di diventare sempre di più anche l'Andes Krankenhaus ospedale provinciale e vivere anche di più questo ruolo. Dall'altra parte questo deve essere anche visto da parte del territorio come in diversi settori e in certi reparti già avviene come punto di riferimento. In tutta una trentina le pagine all'interno delle quali è concentrata la strategia futura per l'assistenza sanitaria in Alto Adige che poggia su quattro pilastri e prende le mosse dal potenziamento dell'assistenza sul territorio. Il secondo pilastro si può sintetizzare sotto lo slogan assicurare un futuro ai sette ospedali alto tesini e la riforma verrà supportata dagli altri due pilastri rappresentati dalla riorganizzazione della struttura dirigenziale e amministrativa e dall'ottimizzazione dell'organizzazione aziendale e dei processi che coinvolge un catalogo di 150 misure. Entro giugno dovrà essere pronta la proposta di revisione della legge provinciale quindi prenderanno in via i lavori per il nuovo piano sanitario provinciale.